I cani sono animali che non hanno bisogno di molto per essere felici. Per loro, l'amore dei loro umani, un posto dove dormire, cibo e acqua, sono più che sufficienti per godersi la vita. Tuttavia, se vogliamo che vivano ancora meglio, dobbiamo prestare attenzione ad alcuni dettagli della loro vita quotidiana. In questo video di Animalpedia ti daremo 10 trucchi per rendere il tuo cane ancora più felice e sano. Non te li perdere! 1. Alimentalo correttamente Una corretta alimentazione è la base per godere di una buona salute ed è una delle chiavi della felicità. I cani amano mangiare, quindi dobbiamo offrire loro un alimento che soddisfi tutte le loro esigenze nutrizionali e allo stesso tempo sia appetitoso. Ci sono diverse opzioni per nutrire i nostri cani e dobbiamo valutare qual è la migliore in ogni caso. In questo modo possiamo offrirgli una dieta fatta in casa seguendo il consiglio del nostro veterinario oppure scegliere un'alimentazione di alta qualità. Ma cosa dobbiamo considerare quando scegliamo un alimento o l'altro? Gli ingredienti e il processo di elaborazione. Indipendentemente dal prezzo è essenziale considerare il tipo di ingredienti che sono presenti, i conservanti o gli aromi, nonché la quantità di ingredienti di origine animale di alta qualità, come carne e pesce, e il processo di elaborazione. Si consiglia di scegliere gli alimenti fatti con ingredienti antossidanti, conservanti e aromi naturali. Ricorda che ogni cane ha bisogno di un'alimentazione specifica che soddisfi i suoi bisogni nutrizionali perché ogni cane è diverso. 2. Gioca con lui Il gioco ci permette di rafforzare il legame con il nostro cane. Inoltre, il semplice fatto di trascorrere insieme un momento divertente aumenta la felicità dell'animale. Quindi non esitare e compra diversi giochi oppure creali tu stesso, guardando i video tutorial sul nostro canale. Le palline e i giochi da mordere sono di solito tra i favoriti, ma anche i giochi di intelligenza ti permetteranno di stimolare mentalmente e mantenere attivo il tuo cane. 3. Fagli fare esercizio fisico Camminare per 20 minuti non è sufficiente perché il cane, se è veramente felice e stimolato correttamente, deve fare passeggiate ed esercizio fisico. È altamente consigliato che l'animale corra per scaricare tutta l'energia accumulata, cammini per stimolare l'olfatto e trovare nuovi stimoli e si relazioni con altri cani. 4. Rinforzo in positivo L'educazione è un altro modo per intrattenere e stimolare il cane, ma deve sempre essere in positivo. Punire e sgridare il cane producono stress e paura, oltre alla rottura del legame con il tutor. Allo stesso modo, possono anche essere l'origine della comparsa di comportamenti indesiderati, come l'aggressività. Per questo motivo, gli esperti consigliano di rafforzare i comportamenti corretti con parole di incoraggiamento, carezze, giochi o premi, per motivare l'animale e fargli capire quello che vogliamo. 5. Non trascurare la sua igiene Spazzolare, fare il bagno, tagliare le unghie, svuotare le ghiandole anali, pulire gli occhi, le orecchie e i denti sono le cure di base che il cane ha bisogno per essere sano e felice. Le ghiandole anali piene producono disagio e possono infettarsi, le unghie troppo lunghe non permettono al cane di camminare bene e l'eccessivo accumulo di tartaro provoca dolore in bocca, non trascurare la sua igiene. 6. Capire il loro linguaggio Capire il linguaggio dei cani ci aiuterà a comunicare meglio con loro e ci permetterà di soddisfare tutte le loro esigenze in modo appropriato. Scopri i segnali di calma, il significato delle diverse vocalizzazioni o posizioni corporali. Ti sorprenderai di vedere la quantità di cose che il tuo cane ti sta dicendo tutti i giorni. 7. Rassicuralo Per essere felice, un cane ha bisogno di sentirsi al sicuro nella propria casa, avere fiducia nei suoi compagni e godere di un letto comodo per dormire. Per noi il riposo è molto importante, ma anche per gli animali, quindi è necessario garantire al cane che dorma le ore di cui ha bisogno e che riposi comodamente. 8. Presta attenzione alla sua salute Ciò significa che dobbiamo andare dal veterinario per eseguire gli esami di routine, vaccinare e sverminare l'animale. Pulci, zecche e parassiti possono causare gravi danni alla salute del cane ed è nostra responsabilità impedire che ciò accada. Inoltre alcuni parassiti possono colpire anche gli esseri umani. 9. Dedicali più tempo Non è consigliabile che un cane trascorra più di otto ore da solo in casa, quindi se vuoi che il tuo animale sia il più felice possibile, dedicali più tempo. Gioca con lui, portalo fuori o semplicemente godetevi di un momento di tranquillità in casa insieme. La tua compagnia è tutto per lui. 10. Offrigli tutto il tuo amore I cani sono animali particolarmente socievoli e affettuosi, capaci di creare un legame forte e duraturo con le persone. Perciò, se dai tutto il tuo amore al tuo cane, avrai al tuo fianco un compagno fedele che non ti abbandonerà mai. Metti in pratica tutti i nostri consigli e rendi il tuo cane il più felice del mondo. Non dimenticare di lasciare il tuo commento per spiegare cos'è che rende felice il tuo cane. E se ti è piaciuto il video, dai un like e iscriviti al nostro canale. Alla prossima! Alla prossima!